La campagna elettorale per le elezioni amministrative di maggio è praticamente iniziata, con alcune candidature a sindaco già ufficializzate e la composizione delle liste che a due mesi dal voto comincia lentamente a prendere forma. Ma sono ancora in molti ad ignorare un dato che si rivelerà decisivo per la configurazione dei nuovi consigli comunali, e cioè che alle prossime elezioni amministrative, al fine di favorire la rappresentanza femminile nella massima sise cittadina e all'interno delle giunte locali, saranno introdotte la doppia preferenza di genere e la cosiddetta quota di lista. La legge numero 215, approvata dal Parlamento il 23 novembre scorso, passata praticamente sotto l'assoluto silenzio degli organi di informazione, ha infatti modificato in maniera sostanziale il testo unico degli enti locali nella parte dedicata all'elezione dei consigli comunali. Secondo quanto confermato sia da Lanci che dall'ufficio legislativo del Partito Democratico, la nuova legge stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'elettore che si presenterà alle urne i prossimi 26 e 27 maggio potrà esprimere due preferenze all'interno della stessa lista purché riguardanti i candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Tradotto in parole più semplici, votare due uomini o in alternativa due donne non sarà possibile. Il doppio voto non sarà obbligatorio poiché viene in ogni caso salvaguardata la possibilità per l'elettore di esprimere anche una sola preferenza. L'altra novità importante che viene introdotta dalla legge 215 riguarda la cosiddetta quota di lista, ovvero nelle liste dei candidati che verranno presentate alle prossime amministrative nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. La commissione elettorale, in caso di mancato rispetto dell'indicazione, riduce la lista cancellando i candidati del genere più rappresentato partendo dall'ultimo fino ad assicurare il rispetto della quota. Da sottolineare, ed è importante farlo, come la nuova legge riguardi anche i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, come specificato dalle variazioni apportate all'articolo 173 del testo unico degli enti locali e che le sue modifiche non avranno bisogno di alcun recepimento da parte degli statuti comunali, poiché trattasi di legge nazionale e quindi direttamente applicabile a tutti i comuni che si presenteranno al voto i prossimi 26 e 27 maggio. Ciò che andrà recepito all'interno degli statuti entro sei mesi dalla pubblicazione della legge sono invece le indicazioni riguardanti la composizione degli organi collegiali non elettivi. Le nuove disposizioni stabiliscono che dovrà essere garantita e non più solo promossa la presenza di entrambi i sessi all'interno della Giunta e quindi di tutti gli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune. Tale recepimento all'interno degli statuti comunali dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale o, dove non presente, dal Commissario Prefettizio.